Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Ora Tg. Questa mattina a Catania dopo l'incontro di ieri promosso dalla regione sull'emergenza incendi a cui hanno preso parte tutte le istituzioni e che hanno focalizzato l'attenzione sulla playa ricorderete nelle scorse settimane devastata da un vero e proprio fronte di fuoco stamani abbiamo sentito il parere del sindacato dei lì di Balneari. Mario Grasso. Tempi brevi per dare sicurezza alla playa era stato detto ma con i dovuti accorgimenti per cui i primi interventi che dovranno mettere in sicurezza sia in estate che in inverno l'ampio sistema che si snoda lungo il viale Kennedy e che si dà un lato al boschetto della playa poi il sedime aeroportuale dall'altro alla spiaggia con i tanti lidi che si susseguono sulla battigia catanese saranno solo successive all'attuale stagione balneare che ormai è entrata nel clou. Lo si evince dalle decisioni assunte ieri dal tavolo convocato dalla regione siciliana con tutti i soggetti territorialmente competenti dalla prefettura al comune dai vigili del fuoco alla protezione civile alla forestale passando per la capitaneria di porto, l'associazione dei vivi, l'aeroporto. Entro il 30 settembre verranno definiti gli obiettivi per la redazione di un piano stralcio di protezione civile legato ovviamente al rischio incendio. Entro la fine di marzo del 2020 invece il piano dovrà essere pronto per la sua attuazione. Il gruppo di lavoro che sarà coordinato dal capo della protezione civile della presidenza della regione, cioè Callogerofoti, dovrà trovare le soluzioni per garantire le vie di fuga dal Viale Kennedy, la ricolificazione e la gestione del boschetto della playa, il parcheggio per le auto dei bagnanti, la sistemazione idraulica dei torrenti che attraversano l'area, quindi la collocazione di idranti per l'approvvigionamento idrico in caso di necessità. Infine, ma non per ultimo, la pulizia delle aree incolte pubbliche e private. Questa l'opinione del sindacato dei Lidi, strutture economiche che tengono viva la playa. Devo dire che sono stato favorevolmente colpito dal fatto che alcune risposte alle domande che la categoria si faceva erano già pronte al tavolo, quindi una competenza davvero alta, grande l'interesse sia da parte del Presidente della regione che dal sindaco e da tutti i presenti al tavolo e, come dicevo, una competenza alta perché non facevamo in tempo a rilevare una problematica che già il tavolo in qualche maniera aveva trovato un percorso per trovare la soluzione, per risolvere queste problematiche. Voi spesso vi siete battuti proprio in termini di sicurezza, sia in estate che in inverno. Estate, gli incendi, inverno gli allagamenti. Le misure che vengono ipotizzate, che dovrebbero essere attuate, si spera da qui all'anno prossimo, secondo voi hanno un contesto davvero reale? Beh, devo dire sì, in effetti al momento è vero, ci siamo trovati a discutere di quali possono essere le migliori soluzioni, ma senza una programmazione ben fatta, solo perché si cavalca l'onda emotiva dell'incendio del 10 luglio, si potrebbe operare, ma operare in maniera non coordinata e non ottimale. Quindi il tempo è necessario per poter ben pianificare. Alla fine dell'anno prossimo siamo certi che sarà chiaro se questi incontri portano concretezza oppure no. Se non abbiamo capito male, programmazione. Ciò significa che sì, a settembre e ottobre chiuderanno le attività balnearie di fatto ufficialmente qui alla Playa, ma voi starete sempre sul pezzo a sollecitare le istituzioni perché quanto scritto su carta si materializzi. Non possiamo fare altrimenti perché questo è il nostro pane e qui sulla Playa si riversano circa 100.000 persone nei momenti di punta e ne abbiamo la responsabilità. Il governo regionale è prodigo di annunci, ma dai pochi fatti. L'ex assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo contro il governo Musumeci. Ancora grasso. E' un fiume in piena il deputato del PD all'Ars Anthony Barbagallo, già assessore regionale al turismo. Il governo regionale in carica, cioè quello guidato da Nello Musumeci, di fatto è prodigo di lanci, ma scarso di vere notizie. Anthony Barbagallo chiede maggiore concretezza e concertazione. Noi siamo preoccupati, angosciati di questa estate siciliana piena di collegamenti e trasporti che non funzionano. Basta vedere la Palermo Messina che non avrà quest'anno per la prima volta collegamenti ferroviari che arriveranno a metà settembre. Autostrade intasate per lavori come quelli sulla galleria Giardini, che dovevano finire prima a maggio, poi a giugno e poi a luglio. La spazzatura in mezzo alle strade, incendi non domati, insomma è un continuo di disorganizzazione politica e amministrativa da parte della regione. Per non parlare di due chicche che fanno veramente male, come la vicenda di Santa Maria la Scala del Bora Bora o il trasferimento del pronto soccorso periatrico improvvisato. Chiediamo maggiore attenzione al governo regionale e chiediamo soprattutto che la smettano con questi annunci e se rimbocchino finalmente le maniche nell'interesse dei siciliani. Se abbiamo capito male lei dice no alle parole più fatti. Assolutamente sì, la smettano. Con questi continui annunci trionfalistici i siciliani hanno bisogno di risultati concreti, di poche cose fatte da fare ma realizzate in modo pratico. Basta annunci e soprattutto basta con questi pasticci che hanno avvelenato l'estate siciliana. Le ritiene che anche questo possa portare da qui a breve a un ripensamento dell'impalcatura del governo regionale, anche nel rapporto con l'Ars che non è sempre stabile e pare essere anzi assai fluttuante. Si parla tanto di questo rapporto tra il governo e l'Assemblea, il governo che non ha la maggioranza. Io credo che tra i 70 deputati di tutte le forze parlamentarie non c'è nessun deputato che tifa contro la Sicilia o non ha a cuore il destino dei siciliani, anche da parte delle posizioni più accanite. L'atteggiamento del governo deve cambiare, il governo deve venire in aula con la voglia di scrivere insieme le riforme, invece sono insopportabili queste continue marchette che il governo propone in aula. Lei è stato assessore al turismo della regione siciliana, il turismo si programma sempre, adesso siamo in estate, ma cosa piacerebbe sentir dire all'ex assessore al turismo Anthony Barbagallo che l'assessore al turismo attuale facesse per la prossima, è stata quella del 2020? Cose normalissime che purtroppo nell'ultimo anno e mezzo non sono più diventate normali, perché la gente ha bisogno di piccole cose, non servono dichiarazioni o fatti trascendentali, ad esempio mi riferisco alla vicenda dei teatri di pietra che noi nel corso del nostro governo avevamo riaperto con successo, con una buona programmazione, nelle ultime due estate il governo regionale non è stato in grado di allestire Morgantina, non ha allestito i teatri di pietra più famosi nel mondo come la Crai, come Segesta, Selinunte, per non parlare poi del fatto di Catania, dell'anfitriato greco romano di Catania che è rimasto chiuso per settimane, è aperto un solo giorno alla settimana e nell'estate 2019 chiuso per lo spettacolo dal vivo, insomma abbiamo un gioiello al centro della città di Catania che si continua a tenere chiuso con importanti risorse disponibili. Non si hanno ancora notizie di Giuseppe Di Grazia, 45 anni, un uomo scomparso lo scorso 25 luglio da Aci Bonaccorso. C'è un vero e proprio pool di ricerche attivato da amici e parenti, questa mattina l'appello anche dei familiari raccolto per noi da Salvo Cutuli. Giuseppe Di Grazia nella foto, 45 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal 25 luglio scorso quando si è allontanato da casa volontariamente informando i suoi familiari della scelta di trascorrere qualche giorno fuori casa ma senza comunicare la destinazione. Giuseppe Peppe, per quanti lo conoscono, è un uomo dalla sensibilità spiccata ed emotivamente fragile. Nella piccola comunità di Aci Bonaccorso il 45enne, noto per la sua passione per la bici, un mezzo da cui non si separa mai, spostandosi in lungo e largo per il paese e i comuni vicini. In passato Giuseppe si era allontanato da casa comunicando sempre i suoi spostamenti per poi farvi rientro dopo qualche giorno di assenza, restando in contatto telefonico con i propri familiari che in qualche modo ne seguivano i movimenti. Da 12 giorni Peppe non dà più notizie di sé, il cellulare risulta spento. Parenti, amici e conoscenti lo hanno cercato nei luoghi che solitamente frequenta ma senza esito. Il fratello Carmelo e la sorella Stefania hanno sporto denunce ai carabinieri aperto una pagina Facebook affidando le proprie speranze di ritrovarlo alla segnalazione degli utenti online. A quasi due settimane dall'ontanamento Giuseppe non dà notizie di sé, gettando nello sconforto i propri familiari. L'appello della sorella Stefania e del fratello Carmelo che hanno attivato il numero telefonico per le eventuali segnalazioni. Di solito quando si assenta da casa ci informa, questa è la prima volta, quindi siamo spaventati che possa essere successo qualcosa. Infatti abbiamo chiamato anche gli ospedali per assicurarci, per fortuna, che non si sia fatto male. Però siamo seriamente preoccupati perché non è da lui non darci notizie. Non l'ha mai fatto insomma? No, no, completamente. Lui si allontana per lavoro, per altre cose, però siamo sempre informati su questo. Giuseppe in qualche modo vede la televisione, faccia un appello. Sì Giuseppe, noi ti stiamo aspettando, dacci notizia, facci sapere che stai bene. Faccio un appello a tutti, chiunque lo dovesse vedere, di chiamarci perché siamo preoccupati. In paese in tanti stanno collaborando alla ricerca di Pippo, dai carabinieri della stazione di Via Grande che hanno diramato un annuncio ufficiale alle altre forze dell'ordine, ai paesani. Francesco Lima, amico di famiglia e tra i promotori del gruppo di concittadini impegnati nelle ricerche dello scomparso. Ci siamo attivati tutti, devo dire, con tanta sensibilità, soprattutto qui a Daci Buonaccorsi perché lo conosciamo tutti, le Pippo. Io ho dato un grandissimo contributo personale, ma lo stiamo dando veramente tutti. Dobbiamo considerare che comunque l'appello fatto attraverso i social ha dato un fortissimo riscontro con circa 1800 visualizzazioni che non sono poche, non soltanto con gli amici di Daci Buonaccorsi, ma anche gli amici degli amici. Quindi diciamo che in tutta la provincia di Catania e non solo in questo momento attraverso i social stanno visualizzando la foto di questo ragazzo, di Pippo. A breve un pronto soccorso temporaneo a Giarra. Stamani il commissario dell'Asp, Maurizio Lanza, ha tenuto un incontro tra i sindaci del distretto, istituzioni, esponenti di associazioni, tra queste anche quella denominata Rivogliamo l'ospedale, di Giarra, per fare il punto sui lavori di ristrutturazione ed ampliamento del San Giovanni di Dio e San Isidoro. Vediamo. L'ospedale di Giarra avrà il suo pronto soccorso, così come previsto dal nuovo piano sanitario regionale, ma la novità è che non occorrerà aspettare i quasi due anni di lavori di adeguamento della sfortunata struttura. Sarà aperto un pronto soccorso provvisorio, più piccolo, utilizzando una parte dei locali ed il poco che si può. Lo annuncia l'assessore regionale della salute Ruggero Razza all'indomani di un incontro con il manager dell'Asp di Chetani e di presidente Musumeci. Notizia diffusa oggi nel corso di un incontro promosso dall'Asp all'ospedale Giarrese e a cui hanno preso parte regioni, amministratori, associazioni, cittadini, operatori sanitari, sindacati. Illustrati i dati sulle condizioni della struttura ed il primo progetto di rilancio per avere pronta almeno la parte frontale dell'edificio, quella d'emergenza, con pronto soccorso, centro analisi e radiologia, 41 mesi, costo 10 milioni. Saranno degli ambienti moderni, efficienti e questa nostra richiesta, questa elaborazione prettamente tecnica è stata prima condivisa dal direttore generale e successivamente avallata dalla regione. Per cui nel nuovo finanziamento di addendum stralcio arriveranno questi 10 milioni. Frutto della nostra progettazione preliminare adesso dovrà diventare una progettazione esecutiva. Soddisfatti dell'immersione di marcia dopo 4 anni della chiusura del pronto soccorso i sindacati di sindaci del distretto sanitario. Si vuole attuare, rigenerare, ripristinare la funzione di questo ospedale, quantomeno strutturalmente ci vorranno questi 41 mesi, perché chi è che amministra sa benissimo che i tempi sono questi, l'autorità dei bacini, il genio civile, stabilità, calcoli, affidamento, gare, questi sono i tempi. È chiaro che la promessa che hanno fatto già di aprire un pronto soccorso per alleggerire quelle che sono la tempistica dell'ospedale 10 reale è una cosa buona. Ma c'è chi esprime perplessità. Sentire oggi a distanza di 6 mesi dalla pubblicazione del gazzetto ufficiale della nuova rete ospedaliere e quindi di fatto sulla carta della riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Giare, che occorrerebbero ancora 41 mesi per la completa attuazione e circa 30 milioni di euro, vale a dire l'intero costo della struttura da quando nel 1969 fu posta la prima pietra per poi essere inaugurata il 2001. È chiaro che questi numeri non ci possono guardare. Il direttore generale dell'Asp, Maurizio Lanza, conferma l'indirizzo della regione anche sull'apertura del pronto soccorso provvisorio, ma i tempi restano un rebus troppo ottimistico. Parlare di fine anno si attendono ancora le linee guida da Palermo. Nel momento in cui si sarà in grado di avere una struttura per un pronto soccorso temporaneo rimarrà il problema del personale che ci dovrà operare? Lei è molto preparata sul tema. Purtroppo i nostri pronto soccorsi soffrono di carenza di personale è ovvio che noi, come ho già detto prima, possiamo aprire strutture solamente nella misura in cui queste strutture ubbidiscono dei requisiti. Il pronto soccorso ubbidisce dei requisiti strutturali e di personale, aprirà quando questi requisiti saranno rispettati. Una notizia di cronaca. Un tassista abusivo a riposto accompagnava venditori ambulanti sulle spiagge affollate. Lo scorso fine settimana i carabinieri della locale stazione nell'ambito di un servizio di controllo del territorio costiero con particolare riferimento alle diverse forme di abusivismo hanno sorpreso sul lungomare un santo tenne di mascali con precedenti di polizia che, alla guida della propria piccola utilitaria, trasportava a pagamento ben 5 cittadini extracomunitari venditori ambulanti e abusivi che operano sul litorale contro ogni forma di legalità. Il tassista abusivo, sorpreso anche dal controllo accurato dei militari per un comportamento che riteneva normale, per lui è scattato il sequestro dell'autovettura e il ritiro della patente nonché contravvenzioni per un totale di circa 2.000 euro. Parliamo adesso di vertenze di lavoro. Oggi è il turno dei dipendenti Papino, catena di negozi di elettrodomestici, che soffia la crisi e taglia il personale. Questa mattina un sit-in davanti alla prefettura di Catania. Nuovi guai per il mondo dell'occupazione. Stavolta è il gruppo Papino, azienda leader nella distribuzione di elettrodomestici, ad andare in crisi. Abbiando le procedure di licenziamento per oltre 80 dipendenti impiegati in alcuni punti vendita della Sicilia, 5 altri dipendenti erano già stati licenziati, mentre chi ancora lavora in forza al gruppo non ha ancora ricevuto le spettanze di giugno e luglio, oltre la 14esima. C'è chi sospetta che l'azienda voglia dimagrire per cedere alcuni punti vendita ad altre grandi catene di distribuzione, che se da un lato potrebbe essere una buona notizia, dall'altro lato impensierisce non pochi sindacati che sin qui hanno visto affermano poca chiarezza nella procedura avviata dall'azienda. Quest'oggi sciopero regionale dei lavoratori Papino e sit-in innanzi alla prefettura di Catania. Praticamente l'azienda Papino ha iniziato a licenziare a maggio con 5 nostri colleghi, poi ha proseguito una procedura di licenziamento collettivo per la Expert Police, il negozio di Etnapolis con il licenziamento collettivo di ben 29 persone. Poi il 12 luglio ha proseguito con un licenziamento collettivo per esubero con la Papino elettrodomestici di 83 persone. Noi siamo qui venuti soprattutto per rispettare, per far sì che l'azienda rispetti il nostro lavoro che abbiamo fatto per anni e questa azienda l'abbiamo fatta diventare grande con il nostro lavoro e il nostro sacrificio. Noi in questa azienda abbiamo lavorato dalle 12 alle 14 ore di lavoro con la consapevolezza di fare bene sia per l'azienda e fare bene anche per noi e per le nostre famiglie. Invece a tutt'oggi questo trattamento è un trattamento veramente vergognoso. Permettetemi di dire questa parola anche perché noi avanziamo a tutt'oggi la 14esima di giugno, lo stipendio di giugno e lo stipendio di luglio che a tutt'oggi non ci ha dato. Ci sono i negozi aperti, significa ancora i negozi incassano soldi e questi soldi dove vanno a finire? Perché a noi dipendenti non ci ha ancora pagato le nostre spettanze? Noi chiediamo all'azienda un po' di chiarezza e un po' di onestà, quella che abbiamo avuto noi lavoratori per anni per l'azienda Papino e per la loro famiglia, la famiglia Papino. E dico anche una cosa, che un atteggiamento di questo, onestamente anche nel tavolo delle trattative con i sindacati, abbiamo richiesto gli ammortizzatori sociali, i contratti di solidità, la cassa integrazione, ma l'azienda non vuole sapere di queste cose, questa cosa non è corretta. Voi auspicate che un tavolo in prefettura possa risolvere la situazione? Guardi, noi a questo punto ci auguriamo che un tavolo in prefettura possa far sì, far ragionare l'azienda e far capire che quello che sta facendo ai suoi lavoratori e ai suoi dipendenti è sbagliato, non è corretto. Lo show per odierno è stato proclamato da Filcams, CGL, Fisaskat, CIS e Willkutus Will. Le rappresentanze di categoria, oltre ad auspicare chiarezza sui bilanci, hanno chiesto quale sia la situazione finanziaria reale del gruppo Papino e su eventuali trattative in corso con altri soggetti per la possibile cessione di tutti o di alcuni punti vendita. Adesso ad Acci Sant'Antonio per un finanziamento importante che riguarda il parco di Casalotto che verrà riqualificato e reso finalmente fruibile. Sono tre ettari di fitta vegetazione immobili di pregio appartenuti ai principi di Casalotto di Re Burdona. Il parco di Casalotto di Acci Sant'Antonio ottiene un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro necessari alle opere di riqualificazione e fruizione pubblica, se ne discute da 30 anni. La rimodulazione dei lavori aggiornati al prezziario odierno è stata approvata nella delibera di giunta dei giorni scorsi. Il progetto prevede il recupero del bellissimo parco urbano che si estende su un'area di tre ettari con annessi fabbricati nobiliari in disuso da anni, dimora dei Re Burdona, ricchissimi lati fondisti, divenuti nobili col titolo di principi, cui va il merito di bonifica delle campagne circostanti con massicci interventi di piantumazione di agrume e vitigni, contribuendo alla creazione del primo ceppo abitativo di Acci Sant'Antonio. I buonaccorsi di Re Burdona, più noti come Casalotto, dimorarono per anni in questa bellissima tenuta, a specie nel periodo estivo. Il principe Luigi venne saporto nella cappella di famiglia, successivamente vandalizzata, insieme a tutto il resto degli immobili di valore. A Casalotto si deve una delle prime attività industriali nella produzione di vino. Del vecchio parmento è rimasto ben poco, così come della cantina che custodiva enormi bottini di rovere e la casa patronale, spolpati nel corso degli anni di ogni singolo pezzo di valore, dalle mattonelle in ceramica, delle cucine, alla mobilia. Non è rimasto nulla, come pure i due leoni in marmo bianco posti ai bordi della piscina ed altri arredi di pregio derubati in anni di abbandono del complesso abitativo, che fu circa vent'anni ursono oggetto di un tentativo di speculazione di vizia bloccato dalla sovrintendenza di Catania, a seguito del ritrovamento di un sito archeologico di epoca greco-romana, oggi interamente ricoperto dalla vegetazione. Pochi sono a conoscenza del fatto che nel parco sono stati messi a dimora alberi provenienti da Asia, America e India. Si tratta di arbusti di grande pregio adattatasi perfettamente al clima siciliano, formando un patrimonio boschivo unico nel suo genere, eppure poco noto se non agli agronomi che anni addietro effettuarono una mappatura delle piante esistenti, le uniche a salvarsi dalla sistematica azioni di spogliazione con furti e costanti atti di vandalismo. Per la comunità di Acesan d'Antonio il recupero e la fruizione del parco dei Casalotto significa custodire le proprie origini, restituendo alla cittadinanza e ai visitatori un pezzo importante della propria storia. Antonio Marano, assessore ai lavori pubblici. Soddisfazione sia per l'amministrazione che con una buona proclamazione riuscita nell'intento, ma anche per i cittadini, dare la possibilità ai cittadini di riscoprire quello che è il primo ingegnamento di Acesan d'Antonio, che parte proprio da Casalotto e quindi dare la possibilità ai cittadini e non solo, quindi anche dell'Inter, di usufruire di un posto incantato, bellissimo per tutti, sia come parco, parco, ma sia anche come fabbricati che sono annesse all'interno del parco. Per il sindaco a Santa Caruso è un motivo di orgoglio di recuperare questo polmone verde della cittadina, che è allo stesso tempo un pezzo di storia identitaria sant'antonese, nonché bellissimo esempio naturalistico dell'intero comprensorio delle ACI. Una bella notizia e soprattutto un motivo di orgoglio, perché Casalotto è il nostro cuore e quindi oggi siamo riusciti a recuperare un finanziamento di qualche anno fa, abbiamo 2 milioni e mezzo a disposizione da parte della regione attraverso dei fondi comunitari, l'ufficio è già predisposto al progetto che abbiamo approvato in giunta e speriamo di partire presto. È sicuramente importante poter dare a questo bellissimo posto la dignità, perché per molti anni è stato abbandonato, è stato oggetto anche di speculazioni, è stato anche oggetto di vandalismo e oggi con questa possibilità possiamo ridare qualcosa di veramente dignitoso al nostro territorio. E rimaniamo sempre ad ACI Sant'Antonio, ma ci spostiamo in una delle frazioni che soprattutto nel periodo estivo soffre una carenza idrica che manda in tilt un intero quartiere, c'è un disservizio determinato da un guasto ad una pompa, il servizio di Rosaria Rinaudo. In questo momento esce un filo d'acqua, ma di solito com'è? Come è stato in questi giorni? Zero completamente, ora stamattina solo un filo, addirittura prima usciva tutta sporca. Senza acqua, da venerdì a martedì, ropinetti a secco nei giorni più caldi dell'estate e se arriva non basta nemmeno liberare il lavello dei piatti accumulati, cresce l'esasperazione tra i residenti di Santa Maria la Stella nel comune di ACI Sant'Antonio, dove il prezioso liquido in molte case arriva con il contagocce. Rubinetti è secco a lungo, siamo abbandonati alla disperazione totale, dice questa donna. Avevano detto che stamattina a Santa Maria la Stella dovevano esserci quelli dell'acosetti, avete visto qualcuno? No. Ha cinque giorni che siamo senza acqua, solo voi. Come provvedete? Come provvediamo? Io vado a lavare la biancheria da mia sorella, si fanno avanti e indietro per prendere bitoni d'acqua e non mi sembra una cosa questa normale. E le docce, insomma la pulizia, l'igiene intima? L'igiene intima la facciamo con le bottiglie, compriamo l'acqua, ci facciamo la doccia così. Ma avanti così da quanto tempo, da quanti anni? Allora da molti anni, ma ora proprio ha un paio di giorni che non si può vivere più così, non si può vivere. Le fanno ecco nell'impotenza e rassegnazione altri abitanti del popoloso quartiere residenziale che si sfogano alla vista delle telecamere in strada. Grossi problemi di approvvigionamento ed erogazione idrica riguardano Macchia di Leopardo, il territorio del comune di Aci Sant'Antonio ed altre zone periferiche. Fonti istituzionali fanno sapere che si è verificato un guasto alla pompa del Pozzo Sidra da cui attinge l'acosette che gestisce qui il servizio, senza impianti propri nella zona. La fornitura in questi giorni si sarebbe abbassata da 16 a 6 litri al secondo. Il serbatoio di Lavinaio non ce la fa neppure a riempirsi. Opera e lavoro per evitare i disagi è stato assicurato, ma è l'ennesima volta gli utenti sono stanchi. Rispondono, stiamo sistemando, il sindaco si è mosso, ma dove? Dove si è mosso questo sindaco? Forse dalla poltrona alla sedia si è mosso, mi dispiace. Noi non riusciamo a capire il perché, quando gli si chiede e se fanno quattro gride l'acqua arriva. Questo è un problema grande, quindi l'amministrazione dovrebbe essere più attenta ad andare a controllare il perché. Il comune con il suo 5% in acosette non può intervenire materialmente. Ci siamo fatti portavoce dei cittadini disagiati, dice Santo Caruso, il sindaco, ma invitiamo gli stessi utenti a segnalare ogni problema anche all'acosette. Ma l'incubo è vecchio di anni. Servirebbero investimenti per uscirne definitivamente. Occorre adesso capire quali piani abbia in merito la rinnovata governance della società. Ritorniamo nuovamente a Giarre, ma per parlare delle bollette tariche, come saprete, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sono arrivate con ben 5 mesi di ritardo. Questa mattina il sindaco Angelo Danna ha nuovamente rassicurato i contribuenti, non ci sono more da pagare, così come peraltro specificato in bolletta. Tutto frutto di un processo di trasformazione che spieghiamo nel servizio. A Giarre, bollette Tari arrivate ai contribuenti con un ritardo di appena 5 mesi, ma c'è un motivo e soprattutto il sindaco Angelo Danna rassicura non bisognerà pagare alcuna mora, così come specificato in fattura. E' in atto in questi mesi infatti il processo di trasformazione della tariffa da Tari a Tia, tariffa puntuale. Ciò consentirà nel tempo di pagare solo per ciò che effettivamente si produce in termini di rifiuti. Un passo importante per una città come Giarre, la cui spazzatura ha visto aumenti tra i più alti d'Italia dal 2009. Già in queste bollette arrivate nei giorni scorsi, continua il primo cittadino, si noteranno sgravi grazie ad una legge che non era mai stata applicata in questa città così come in altre del bel paese, circa il 40%. Sì, questo voglio rassicurare tutti quanti. Il fatto che la bolletta sia arrivata in ritardo, peraltro non era la prima volta. Intanto c'è scritto chiaramente che nessuna mora, nessun interesse verrà richiesto ai cittadini. Quindi stiano tranquilli e pagheranno nei tempi che ritengono ovviamente di poterlo fare. Noi ci lo spieghiamo prima possibile perché ovviamente il Comune vive e dà servizi anche grazie alle somme che pagano i cittadini. Vorrei aggiungere però che la novità importante e il motivo del ritardo è anche quella modifica di quest'anno. Quest'anno il 70% di famiglie gerese, forse più, ha avuto una piacevole sorpresa. Dal 2009 noi avevamo una delle tasse più alte, credo in Italia, non solo in Sicilia. Questa tassa è stata ridotta grazie all'aver applicato una legge che risale nel tempo ma che non era mai stata applicata. Non solo a Giara, devo dire, ma ho fatto una verifica. Credo che solo il 30-40% dei Comuni applicano la Tarso, che poi è diventata Tari. A noi serve perché da un lato abbiamo, soprattutto per le famiglie, ottenuto un grande risparmio, ridistribuendo in maniera più equa l'importo. Secondo il principio generale, chi più produce rifiuti più paga. Ma anche grazie a questo noi cominciamo a prepararci alla TIA, che è una tariffa puntuale. Cioè noi vogliamo attraverso questo passaggio arrivare al punto che ognuno paghi effettivamente per quello che produce. Per arrivarci dovevamo fare questo. Tutto, mettere in ordine i sistemi informativi, organizzare questa macchina, ovviamente ha fatto perdere qualche mese in più. Quindi ai miei cittadini dico tranquilli rispetto alle date di scadenza, ma credo siano contenti, soprattutto, ripeto, le famiglie, che finalmente dopo tanti anni ricevono decrementi, risparmi del 25-30 e in alcuni casi anche più. E adesso una notizia che riguarda i nostri amici a Quattro Zampe. C'è un comunicato da parte dell'ADUC, l'Associazione Diritti Utenti e Consumatori, che lancia l'allarme relativo proprio all'abbandono. Non si tratta di vero e proprio abbandono, ma vengono lasciati spesso cani e gatti all'interno delle proprie autovetture per svolgere diverse commissioni. Colpi di calore possono risultare fatali a molti animali che appunto vengono lasciati all'interno dell'automobile. Alcuni proprietari preferiscono non far uscire dall'auto il loro amico a Quattro Zampe mentre fanno acquisti. In realtà il problema si crea proprio lasciandoli all'interno delle proprie vetture, soprattutto se ci sono le alte temperature di questi giorni, nonostante vengano lasciati piccoli spiragli dai finestrini. Tutti coloro che frequentano e che conoscono bene gli animali consigliano ai padroni di non lasciare mai il loro fido o il loro gattino nella propria automobile perché in pochi minuti in estate l'auto può diventare una vera e propria fornace. Inoltre quando succedono cose di questo tipo si è perseguibili penalmente per quanto riguarda il notorio soprattutto che anche da studi quando il termometro segna una temperatura esterna di soli 22 gradi la temperatura interna di un'auto parcheggiata al sole aumenta a circa 50 gradi centigradi e questo può risultare veramente fatale ai nostri animaletti e piccoli amici che possono anche morire all'interno della propria autovettura. Con questa notizia ci fermiamo, adesso lanciamo la pubblicità e i consigli per lì e a questi ci rivediamo subito dopo per la conclusione del nostro Tg. Rieccoci in studio, non ci sono notizie dell'ultima ora, si conclude qui pertanto la nostra prima edizione di Oratg disponibile all'indirizzo che vedete sovraimpressione sul canale Youtube e sulla nostra pagina Facebook dove andiamo in diretta streaming. Adesso le previsioni meteo per la giornata di domani, a voi tutti buon proseguimento di pomeriggio. Tanto sole e bel tempo lo vedete anche per la giornata di domani nelle previsioni meteorologiche per il 7 agosto. Il cielo sarà sereno e limpido su tutta l'isola, i venti moderati, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature sul capoluogo etneo si mantengono pressoché invariate rispetto ai giorni scorsi, a Catania minima e massima rispettivamente di 23 e 37 gradi centigradi. La temperatura più alta a Siracusa con 39 gradi, seguono il capoluogo etneo e poi ancora Ragusa, Agrigento e Caltanissetta. La più bassa invece sarà rilevata ad Enna con 15 gradi centigradi. Grazie. Grazie.